Io mi ricordo il corso preparto, questi uomini, che cosa tu lo fai? Il corso preparto? Lo stai facendo? Lo fa anche lui? Allora, il corso preparto, utilissimo, fondamentale. No, è utile per la valigia, in effetti. Perché ti dicono di mettere cose che uno dice, ma che cosa serviranno tutte queste cose? Invece poi arrivi là e dici, mi servirebbe? Ah, ma ce l'ho nella valigia, perché mi hanno detto... Infatti io le voglio chiamare adesso per farmi la valigia dell'estate. Ma mi hanno detto, al corso preparto è fondamentale che ci sia anche il futuro papà. Arrivo, ero l'unica che aveva portato il futuro papà, e mi sono vista il suo povero disgraziato, costretto a sdraiarsi sul tappetino e a fare la ginnastica vaginale. Quando mi sono rotte le acque, io ho detto al mio fidanzato, amore, mi sono rotte le acque. Ma sei sicura? Non lo so, ti aspettavi una cosa più biblica? Tipo io col bastone in mano, inseguita dagli egiziani? Non lo so. Ma questo è successo anche quando sono rimasta incinta. Io ho detto, amore, sono incinta. Ma sei sicura? C'ho quattro mesi di ritardo. Però in compenso, quando è nata la bambina, l'ostetrica gliela ha messa in braccio e le ho detto, questa è mia figlia. Ma sei sicuro? Ciao! Grazie.